Parte oggi la campagna della TGR dedicata al mondo digitale, prima tappa la palestra dell'innovazione al quadraro, esempio unico in Italia. E da oggi e per tutta la settimana la nuova campagna della TGR cittadini in rete dedicata al mondo digitale. Oggi vi raccontiamo una realtà del quadraro unica nel suo genere in Italia, una palestra dell'innovazione con 10 laboratori completamente gratuiti. Noi abbiamo collegata in diretta a Antonella Armentano. Sì, buongiorno dal quadraro, siamo nella palestra dell'innovazione unica nel suo genere, tanto che sarà esportata non solo in Italia. Accanto a me il direttore scientifico Alfonso Molina, che è un ordinario di strategie della tecnologia dell'Università di Edimburgo, che a un certo punto ha lasciato la Scozia ed è venuto a Roma. Perché? Sono andato a Roma per precisamente lavorare nella creazione della fondazione del mondo digitale e delle nuove forme di educazione per affrontare le sfide del XXI secolo. Ecco, qui siamo in un laboratorio di fabbricazione digitale tra stampanti laser. Vediamo i ragazzi che sono al lavoro. Un progetto sul quale, un misto pubblico privato, sul quale hanno investito in molti a partire da Google. Che vi ha dato quanto quando ha visto il vostro progetto? Google e loro sono impressionato moltissimo delle attività che stavano facendo qua, della visione in corso. Ci hanno dato mezzo milione di dollari. Perché hanno riconosciuto la validità di un progetto che aiuta anche per la formazione del lavoro. Assolutamente. Qui noi facciamo formazione a linguaggi della nuova tecnologia, come per esempio qui il linguaggio della fabbricazione digitale, il linguaggio delle macchine di controllo numerico, come le stampante tridimensionali, le macchine taglio laser o la fresatrice, che sono tutte macchine che attresano ai ragazzi per il lavoro di oggi e del futuro. Ecco, se mi può seguire la camera, ad esempio questi bambini che sono i bambini della terza A dell'Aldo Fabrizi stanno usando la penna laser. Cosa vorrà realizzare Emma? L'ombrello. L'ombrello. Poi di tutte queste applicazioni ci sarà ovviamente un riscontro su quei monitor dove appunto c'è la stampante laser in azione. La coordinatrice è appunto del progetto, la maestra Luciana Pitti, che diciamo non è la prima volta che viene qua con i suoi lunghi, sono già tre anni. Abbiamo iniziato a collaborare con la Fondazione Mondo Digitale, in prima abbiamo fatto un'esperienza di robotica e ora stiamo proseguendo il percorso. Ritengo che sia un'attività altamente formativa per i bambini, anche perché sviluppa quelle che sono le capacità di lavoro collaborativo e potenzia quelle che sono le espressioni personali nelle attività. Ritengo che siano progetti molto utili, noi abbiamo la fortuna di poter partecipare per più anni ed è altamente arricchente per i bambini in vicino delle otto competenze di Lisbona. Ecco sono almeno 200 i bambini che frequentano tutti i giorni questo spazio, 25.000 soltanto nel 2015, soltanto ecco un attimo la possibilità di far parlare Francesco e Gabriele che sono due ricercatori che hanno messo a punto, vedete proprio misurandosi in questo spazio e facendo esperienza, che cosa? Olei è una piattaforma per la realizzazione di tutorial ortopedici stampabili in 3D. Cioè l'avete elaborati proprio in uno spazio, in questo spazio? Esattamente, abbiamo utilizzato i macchinari che ci mette a disposizione questo spazio per la prototipazione del nostro scanner e dei prototipi. Sei ricercatore dove? Io ero ricercatore presso la Vanderbilt University di Nashville, negli Stati Uniti. L'ultima notizia è che presso questo spazio sarà aperto anche alla Magliana. Della Fondazione Mondo Digitale è tutto, lì nello studio.